Fabio Veggiato, TVU Networks ritorna a parlare di sistema di trasmissione dopo l'eccellente sistema di remote production che abbiamo visto al NAB con una nuova versione hardware e una nuova versione software. Sì, una nuova versione software, la 6.0 e una nuova versione hardware che nell'estetica è identica ma ha un processore interno molto più potente per poter ospitare l'opzione H.265 che oggi è una realtà pronta a consegna. Per ciò che riguarda invece il sistema di remote production che abbiamo visto al NAB è una soluzione davvero interessante e alla portata di molti. Cosa bisogna ridire in questa occasione? In questa occasione si può dire che il sistema è una realtà a listino pronta a consegna mentre al NAB era solo presentato per cui oggi può essere venduto e consegnato immediatamente. È un sistema che ha 6 encoder H.268 e H.265 con la tecnologia TVU Inverstat Mux Plus e può essere abbinato fino a due unità per cui mi dà la possibilità di gestire con una connessione fino a 12 canali. Va anche detto che TVU Networks diventa poi di fatto un network di connessione molto interessante anche per i network televisivi e quindi vengono fuori degli accordi che fino a un po' di tempo fa erano impensabili. Assolutamente, infatti di recente abbiamo attivato un trial che risponde all'esigenza di CNN di mandare delle contribuzioni o ricevere delle contribuzioni da RAI attraverso il sistema TVU. CNN ha adottato il sistema TVU da diversi mesi, inizialmente come backup di contribuzione rispetto al KPU e recentemente ha invertito questa cosa mettendo le connessioni KPU in backup e utilizzando come main contribution system il sistema TVU. Vogliamo concludere con una presentazione di quelle che sono le attività attuali o recenti della Professional Show, allora per chiudere questo incontro? Ma questo è stato un anno almeno fino adesso piuttosto frizzante per la Professional Show, per cui ci ha visto impegnati in tantissime attività, sicuramente la più importante delle quali è la realizzazione del mezzo mobile per One TV e The Allianz che in questi giorni è in fase di setup finale e siamo molto orgogliosi di questo e alla fine del mese inizierà a lavorare. E' un mezzo basato su tecnologie IP, 4K, HDF? Assolutamente, è un mezzo basato su tecnologie Ever, CP, HD, 4K e mille altre cose di cui parleremo in un altro momento e poi ci sono tante altre attività che ci vedono coinvolte sul mercato, dall'aeroporto di Venezia dove abbiamo appena vinto una gara importantissima per la fornitura dei LED display e check-in piuttosto che ad altri progetti che stiamo sviluppando e realizzando tra Roma e Milano. E con questo penso che possiamo anche concludere qui dalla stand della TVU Networks, Fabio Veggiato e Antonio Franco per DigitalProduction.tv